Musica Salve a tutti e benvenuti in questa nuova location Era l'unico modo per mostrarvi tutti gli acchiappasogni che vedete tutti quanti qui Che volevo un po' presentarvi prima del tutorial vero e proprio Questo brevissimo video introduttivo sarà seguito poi al tutorial vero e proprio dell'acchiappasogni Che è questo qui Che io generalmente non... è stato un po' una sperimentazione anche per me Perché io questi qua che vedete li realizzo o con cerchi di legno che io intaglio stesso io O questi sono tutti quanti cerchi saldati in ottone praticamente Però siccome non tutti hanno la possibilità di saltare l'ottone piuttosto che il legno Fare i cerchi in legno e tagliati Ho preso questo che nient'altro è che un tubo Praticamente un tubo di plastica che ho trovato in ferramenta E ho pensato comunque di realizzare una versione un po' più casareccia Che alla fine esce comunque benissimo Anzi è una risa anche migliore perché è più doppio rispetto a questi qua In questo modo voi potete tranquillamente realizzarlo senza farvi troppi cruci riguardo il cerchio Che alla fine è penso la cosa più complessa da realizzare Perché poi per il resto è tutto quanto un intreccio E poi vi lascerò anche un pezzo con una breve parte sulla storia della Chiappasogni Perché io sono una patita, ma non si vedono Però io ne avrò almeno 5-6 sparsi per la stanza Tra l'altro uno enorme che magari poi vi lascio una foto di cui sono molto legata Me lo regalo mia mamma ed è con me veramente da tantissimi anni Per quanto riguarda la fattura della Chiappasogni Magari vi lascerò una foto Io ne ho realizzato anche una in forma triangolare Che in realtà non ho messo troppe fotografie su internet Perché lo realizzai come offerta Realizzai praticamente questo Chiappasogni E lo donai allo spirito del luogo dove spesso ci troviamo a riunirci E lo lasciai lì nel bosco C'è ancora con tutto il periodo della grandine Ed è rimasto lì praticamente senza problemi E comunque questo è il risultato finale E vedrete poi il tutorial più avanti Spero che apprezzerete Anche perché non è uno dei soliti tutorial che faccio Un video che mi è stato richiestissimo E quindi ho deciso di farlo Vi lascio un bacio iscriviti al nostro canale Per bands Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.